Buongiorno Vincenzo Longo dalla sala operativa DG di Milano. Proseguono in calo le borse europee questa mattina e sembrano ancora risentire della debolezza di ieri sera di Wall Street. Alle trimestrali deludenti di ieri si è giunta anche Apple che ha chiuso l'esercizio fiscale del 2016 con il primo calo del fatturato dal 2001 ad oggi. I conti del colosso tecnologico sono stati tutto sommato buoni anche se gli operatori guardano con un certo scetticismo alla riduzione del margine operativo atteso per il prossimo trimestre e al costante calo dei ricavi. A indebolire il mercato è stata anche la discesa del petrolio, riposizionatisi ieri sera sotto 50 dollari al barile. Il flusso di trimestrali inizia a intensificarsi anche in Europa con i vari titoli questa mattina che sono oggetto di forti vendite come Saipem. Intanto continua a rimanere preda della volatilità Banca Montepaschi di Siena che ieri evidenziò escursioni di prezzo comprese tra il più 26% e meno 23% passando gran parte della seduta in sospensione. Questa mattina il titolo è sceso sulla soglia dei 25 centesimi salvo poi rimbalzare e tornare sopra i 30 centesimi. Al di là del piano industriale il mercato continua a guardare con attenzione all'evoluzione del roadshow delle prossime settimane e al piano di conversione dei bond subordinati. Nonostante l'eliminazione del diritto di opzione riservata agli attuali azionisti il titolo potrebbe tentare ancora di recuperare terreno se queste due operazioni ovvero il piano di conversione subordinati e il riscontro di qualche ancora investor importante dovessero trovare un buon riscontro da parte degli investitori istituzionali. Abbassando la porzione di aumento di capitale riservata a pubblico a un solo miliardo di euro dagli attuali 5 potrebbe essere una decisione, una mossa, in grado di ridurre considerevolmente l'effetto diluitivo presente sugli attuali azionisti. Strategiche quindi saranno le prossime settimane e gli operatori cercheranno di metabolizzare notizie che arriveranno di volta in volta sul mercato su questo fronte. Sugli indici il DAX di Francoforte e il Futsimib di Milano correggono dopo il test alle resistenze strategiche di ieri collocate rispettivamente a 10.800 punti, 17.400 punti. Ci aspettiamo ancora una settimana di recupero sulle borse con gli indici che tenteranno di rompere questi livelli e spingersi sui target successivi che sono collocati rispettivamente a 11.000 punti per il DAX e 18.000 punti per il Futsimib. Ad aiutare questa performance potrebbero essere soprattutto i dati statunitensi che saranno pubblicati sul finire di questa settimana, in particolare il PIL, la stima flash del PIL del terzo trimestre dell'anno e gli ordini di beni durevoli. Per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata e buon trading.